Siamo contenti della vittoria anche perché ci siamo dato il proprio contributo e devo dare il merito a una squadra, alla squadra tutta, ai miei compagni e a loro. Penso che è un gioco difficile per i due team perché possiamo giocare con gli importanti di entrambi i ragazzi e la partita era molto sentita per noi perché è chiaramente molto importante insomma la classifica del gruppo A e credo che i nostri lavoratori in questo periodo della stagione stiano dando veramente il meglio. Sono contento perché abbiamo preso questi tiri, molti li abbiamo sbagliati però comunque in questo momento della stagione, potremmo migliorare la percentuale al tiro da tre perché se abbiamo avuto la percentuale più alta probabilmente l'avremmo chiuso prima. Però sto dire che Avellino è una buona squadra che ha vinto per partire in contatto ultimamente per noi era molto difficile a giocare avendo potuto tirare soltanto tre punti per tutta la partita. Alla fine è considerata un consenso perché è una partita che ci concentrano al primo posto del gioco. Per noi è molto difficile a giocare perché penso che sia normale a giocare un gioco in 40 minuti senza tre tre punti per tutta la partita. Alla fine è solo tre punti per tutta la partita in ogni gioco in ogni gioco e penso che sia difficile. Ma credo in il gioco in 40 minuti per la partita. oggi perché è il nostro gioco in questo gruppo con un gruppo molto importante e un gruppo molto difficile. Grazie a tutti.